Allora oggi vi voglio raccontare una storiella, una storiella del giovane adolescente che vuole diventare un gamer. C'era una volta nel 2013-2014, quindi magari 5 anni fa, ok? Un giovane adolescente che non avendo lavoro e non avendo soldi chiede a mamma e papà un bel computer perché lui sogna di diventare un gamer. Con tanti bei voti a scuola e magari con tante opere di convincimento, questo giovane adolescente un bel Natale riesce a farsi regalare un computer di fascia media, diciamo con un i5 perché no, un 44-60 o un 45-70 di quarta generazione, un bel banchetto da 8GB di RAM e una scheda video decente per il Full HD che all'epoca poteva essere magari una 970 da 4GB. Il nostro adolescente è felicissimo e per un bel periodo di tempo riesce a giocare tranquillamente ai suoi giochi preferiti. Di tanto in tanto ovviamente con i soldi delle paghette riesce a fare anche qualche piccolo upgrade. Magari una volta mette un banco da 8GB in più di RAM e alle soglie del 2019 riesce magari a comprarsi anche una nuova scheda video visto che i prezzi sono calati e il nostro giovane gamer decide di acquistare ad esempio una 1060 da 6GB usata. Ma un brutto giorno iniziano ad uscire giochi come Assassin's Creed Odyssey e il nostro gamer a mano a mano che va avanti con i suoi bei giochi si rende conto che il suo processore forse non è più in grado di gestire gli ultimi titoli. Così il nostro giovane gamer si mette alla ricerca di nuovi componenti su Amazon e trova un 9400F che costa all'incirca 170€ da abbinare a questo nuovo processore di nuova generazione c'è bisogno di una nuova scheda madre e la soluzione più abbordabile sembrerebbero le nuove B365 di ASRock oppure di ASUS che hanno già il BIOS adatto per questi nuovi processori ma purtroppo c'è da acquistare anche la RAM e quindi altri 16GB di RAM che gli vengono a costare un altro 105€ e il nostro gamer arriva al prezzo di 363€ il nostro gamer è disperato non ha tutti quei soldi per poter fare questo upgrade. E se io vi dicessi che potete utilizzare tranquillamente il vostro 9400F tenendovi i vostri bei banchetti di DDR3? Sigla! Ciao ragazzi bentornati, bentornati in un nuovo video e bentornati sempre qui su Marco Verdoliva Tutorial prima di iniziare con le belle cose che ho da dirvi mi raccomando andateci in descrizione, trovate i link per seguirmi sugli altri social Telegram col mio gruppo Telegram Marco Verdoliva Tutorial il canale offerte Voodoo Hardware dove pubblichiamo un sacco di cose e di offerte di prodotti di Amazon e il sito per le configurazioni Voodoo Builder inoltre vi ricordo che è aperto ormai il mio profilo Instagram Marco Verdoliva Tutorial quindi andate a dare uno sguardo e seguitemi anche su Instagram allora oggi vi voglio parlare di questa scheda madre in pratica girovagando su siti come Taobao mi sono imbattuto in una serie di inserzioni di schede madre un po' particolari si tratta di una Biostar H310 MHD3 questa scheda madre che come potete vedere è fondamentalmente molto simile alle tradizionali H310 ha infatti un socket 1151 compatibili con tutti i processori sia di ottava che di nona generazione con un BIOS già aggiornato quindi potete utilizzarli direttamente ha una serie ovviamente di features fra cui USB, Portesata, PCI Express 16x ma la cosa più interessante sono la compatibilità con RAM DDR3 più precisamente questa scheda madre supporta le RAM DDR3 di tipo L ovvero quelle RAM DDR3 che hanno diciamo bassi voltaggi e che vanno dagli 1.2 agli 1.35 volt in realtà utilizzare delle RAM DDR3 convenzionali non è un grosso problema perché questa scheda supporta in realtà fino a 1.42 di voltaggio allora per testare questa scheda madre ho utilizzato il 9400F ovvero il processore che abbiamo visto in un video scorso e che tutto sommato si è comportato benissimo in gaming con schede video del calibro della 1660 Ti e anche perché no di una 2060 e l'ho accoppiato con delle RAM ovviamente DDR3 a 1866 MHz ovvero un kit da 8GB della Vagents che ho ormai qui da moltissimi anni e che utilizzo spesso per i miei test questi sono stati confrontati, i risultati che ho ottenuto sono stati confrontati con una bench di prova dove il 9400F invece è stato utilizzato con un ASRock Xtreme 4 ok una Z390 Xtreme 4 con delle normalissime RAM DDR4 a frequenze di 2400MHz allora attenzione perché c'è da fare una piccola precisazione anche se questo forse non è il video più adatto servirebbe un video dedicato appositamente per questa cosa allora noi abbiamo preso delle RAM che sono CL13, le DDR3 e delle RAM CL16 che sono invece le DDR4 allora molte persone erroneamente tendono a pensare che all'aumentare della frequenza aumenta anche la latenza effettiva perché il nostro CL, questo numeretto che troviamo scritto sulle RAM che è il CAS Latency va ad aumentare il CAS Latency non so se voi lo sapete ma che cosa rappresenta? rappresenta il numero di cicli necessari che il banco RAM deve effettuare per poter allocare una certa istruzione all'interno della RAM quindi sembrerebbe naturale pensare che all'aumentare del numero di cicli se una RAM necessita di 16 cicli ci mette più tempo rispetto a una RAM che ce ne mette 13 come in questo caso le DDR3 che stiamo utilizzando in realtà questa cosa non è così perché l'effettiva latenza di un banco di RAM oltre a tenere conto del CAS Latency tiene conto anche di tutta un'altra serie di parametri come ad esempio il tempo effettivo di ogni singolo ciclo che viene misurato in nanosecondi all'aumentare della frequenza quindi è vero che aumenta il numero di cicli necessari ma aumenta anche la velocità con cui la RAM effettua questi cicli quindi che cosa succede? succede che piano piano il rapporto fra numero di cicli e velocità di ciclo si va ad equiparare e noi abbiamo che delle RAM DDR3 1866 MHz come in questo caso CL13 effettivamente non sono molto più veloci e non hanno una latenza tanto minore rispetto alle RAM magari 2400 o 2600 che hanno dei CL maggiori allora ho preso tutta questa bella roba e ho iniziato a fare dei test e il primo test è stato un test abbastanza stupido per quanto riguarda il risultato perché effettivamente si tratta di Cinebench dove andiamo ad avere quello che è soprattutto la potenza di calcolo del processore e vediamo che sia la nostra H310 con 9400F ha avuto un punteggio di circa 940 punti lo stesso punteggio bene o male l'abbiamo ottenuto con la Z390 Xtreme 4 poi sono passato ad una serie di test leggermente più interessanti infatti ho utilizzato un software che è Passmark e ho fatto dei test specifici per le RAM e su Passmark abbiamo ottenuto con le DDR3 un punteggio di circa 2308 mentre con le DDR4 un punteggio di circa 2744 quindi un 15% in più di performance a favore delle DDR4 ma la cosa interessante è stato quando io sono andato in effetti a misurare la latenza lineare di questi due tipi di banchi di RAM ottenendo per quanto riguarda le DDR3 e per quanto riguarda le DDR4 valori molto simili ma che si discostano di appena un 10-15% a favore delle DDR4 quindi una piccola differenza c'è ma in effetti è una differenza veramente minima considerando che stiamo parlando di DDR3 contro delle DDR4 che sono ovviamente più nuove inoltre ho fatto su consiglio di Matteo un piccolo esperimento con un software che si chiama Soft Perfect RAM Disk ovvero che cos'è? è un software che vi permette di virtualizzare nel vero senso della parola un tot di megabyte delle vostre RAM come se fossero un'unità disco quindi ho creato questo disco virtuale all'interno delle mie RAM e con Crystal Disk Mark sono andato ovviamente a misurare la velocità delle due RAM in trasferimento quindi lettura e in scrittura e ho ottenuto un risultato abbastanza interessante infatti sulle DDR3 ho avuto in media 7,2 gigabyte a secondo di trasferimento dati contro gli 8,4 gigabyte di trasferimento sulle DDR4 anche in questo caso vediamo che la frequenza leggermente superiore delle DDR4 dà un vantaggio di circa il 10-15% a questi banchi ma come potevano mancare dei test ovviamente sui giochi quello che interessa fondamentalmente al nostro gamer adolescente che deve fare il suo upgrade allora per questi test ho utilizzato la 1660 Ti in Full HD con tutto maxato e ho fatto delle prove su una serie di titoli allora il primo titolo è stato Devil May Cry 5 dove sia le DDR3 che le DDR4 in effetti si comportano quasi allo stesso modo con una media di 135-140 fps molto difficile riuscire a darvi un numero esatto degli fps perché ovviamente variano a seconda della scena su Butterfield 5 ovviamente le DDR4 sono andate come già sappiamo con la 1660 Ti raggiungiamo i 100-105 fps qualcosina in meno con le DDR3 parliamo di circa 95-100 fps quindi un 3-4% in meno su Division 2 invece abbiamo avuto praticamente quasi i stessi fps 60-65 con le DDR3 mentre con le DDR4 siamo saliti forse a toccare anche i 70 ma in ogni caso un 5-6% di differenza in Project Cars invece differenze non ne ho proprio notate su entrambe le DDR sia le 3 che le 4 il gioco spara oltre 150 fps quindi è difficile riuscire a trovare delle differenze su Anthem anche in questo caso vediamo un leggerissimo vantaggio per le DDR4 con 85-90 fps mentre le DDR3 restano ferme agli 80-85 fps parliamo sempre dell'ordine del 7-8% su Metro Exodus situazione molto simile 60-65 fps con le DDR3 con le DDR4 arriviamo a toccare i 70 fps e infine lo spacca processore Odyssey dove con le DDR3 riusciamo ad arrivare ai 60 fps con le DDR4 in molti punti come già sappiamo superiamo abbondantemente toccando i 65-70 fps allora in conclusione che cosa dirvi di questa scheda madre che acquistate e soprattutto dei risultati di questi test allora sicuramente con 50 euro riusciamo a comprare una scheda madre sulla quale il 9400F funziona perfettamente e soprattutto con la quale riusciamo a giocare senza grossi problemi anche con RAM DDR3 sicuramente le DDR4 in generale vi danno qualcosina in più sia per quanto riguarda i test fatti sul software e quindi sulla performance della RAM stessa che per quanto riguarda in gaming riusciamo sempre e comunque ad ottenere un 5% di fps in più ma questo 5% considerate che a chi interessa questa scheda madre costa più di 100 euro a meno che ovviamente non riuscite a trovare qualche buona offerta di RAM a meno di 100 euro la consiglio questa scheda se qualcuno di voi deve risparmiare ovviamente è una buona scheda parliamo di una Biostar parliamo di un chipset H310 che è abbastanza nuovo e che come abbiamo visto funziona tranquillamente per chi invece ha intenzione di fare un upgrade che possa poi in futuro rivelarsi utili per aggiungere altre cose cambiare poi RAM ovviamente avere una scheda madre con RAM DDR3 è una cosa abbastanza limitante per quanto riguarda poi le situazioni future bene ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me vi ricordo di iscrivervi al canale lasciate un like fatemi sapere che cosa ne pensate giù nei commenti noi ci vediamo nel prossimo video ciao